ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della mia rubrica ma ancora sta nevicando io direi basta con la neve vero stop come avrete già visto ho messo una nuova sigla fatta apposta per il periodo natalizio fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti come avrete visto il mio canale sta crescendo e quindi sto pensando di migliorarne la grafica i contenuti e quindi la qualità video questo però pian piano successivamente anche le uscite dei miei video tutorial saranno meno frequenti però questo va a migliorarne i contenuti quindi faremo dei video tutorial con maggiori informazioni con maggior dettagli e soprattutto più lunghi in durata di di minuti proprio per spiegare al meglio tutte le tecniche bene adesso bando alle ciance e vi lascio alle meravigliose immagini del plastico di Castel Solero ciao e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.